Bentornati con le consiglie e previsioni a cura di Methuan. L'espandersi dell'alta pressione sull'Italia e sul Mediterraneo centrale gerano condizioni di stabilità con cili serini o poco nuvolusi, possibili nebbie sulle pianure del nord e temperature massime sopra media su tutto il territorio nazionale. Questa fase di stabilità potrebbe essere interrotta durante la prossima settimana da una più consistente ondata di maltempo, ma ne riparleremo nelle prossime puntate. Ora andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì 20 febbraio. Freddo al primo mattino nelle zone interne di Puglia e Basilicata, con cili serini o poco nuvolusi durante la giornata. O fino a sera i cili si manterranno per lo più sgompri da nubi o con al massimo qualche nube alta nelle zone interne lucane. Per quanto riguarda le temperature, così come possiamo vedere dalla grafica, risulteranno in media col periodo, massime in aumento. I venti soffieranno da calmi a moderati, dai quadranti sententrionali e in generale entrosira saranno in attenuazione ovunque. Per quanto riguarda i mari, invece, saranno calmi o poco mossi l'Adriatico e l'Oionio, mosso invece il Canal Drotterto. Ma eccoci nuovamente con la nostra foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Paolo Laucu per questa meravigliosa alba immortalata sulle coste rucciosi di Porto Migiano, nei pressi di Santa Cesarea Terme. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MetiOne e Teleappula, oppure le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.